Disposti dal Tribunale di Agrigento al termine dell'udienza di convalida, l'obbligo di firma quotidiano è il DASPO per tre tifosi dell'Acragas, arrestati dopo i tafferugli di domenica scorsa all'esterno dello stadio Esseneto di Agrigento, in occasione del match Acragas-Profavara. Un nutrito gruppo di sostenitori della squadra di casa aveva intonato cori offensivi contro i poliziotti e poi aveva avviato una sassaiola contro i tutori dell'ordine, che si erano schierati per evitare contatti tra la tifoseria grigentina e quella favarese. Due poliziotti erano anche rimasti feriti e costretti a ricorrere alle cure dei medici dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, che avevano rilasciato una prognosi di una settimana. Per i tifosi finiti nei guai adesso scatterà il processo per direttissima, previsto per la prossima settimana.